L'autunno anomalo, con temperature ampiamente sopra la media, potrebbe ben presto portare con l'arrivo del freddo le prime influenze stagionali. Per contrastare i rischi, soprattutto nei soggetti più fragili, l'Ulsa ottoberica ha avviato la campagna vaccinale anti-influenzale. Sono già disponibili 88 mila dosi che verranno inoculati dai medici di medicina generale pediatri di libera scelta e farmacisti. L'obiettivo è coprire il più elevato numero di cittadini, non solo anziani a rischio, ma anche operatori di alcuni settori professionisti strategici. La campagna di vaccinazione anti-influenzale fondamentale, sottolinea la dottoressa Bonavina, direttore generale Ulsa ottoberica, che come azienda ci vede impegnati sia in prima persona sia con un ruolo di coordinamento. Ancora una volta abbiamo messo in campo un grande sforzo garantendo, grazie alla Regione Veneto, la disponibilità di dosi per tutti e la facilità di accesso al vaccino. A questo riguardo vorrei sottolineare, continua Bonavina, da una parte l'importanza dell'attività di vaccinazione che sarà svolta dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dall'altra il ruolo dei CVP che si conferma una struttura strategica non solo per la lotta al Covid, ma anche per altre vaccinazioni. I medici di medicina generale hanno già organizzato le sedute di vaccinazione presso i propri ambulatori rivolti a soggetti di età superiore ai 60 anni, alle donne in gravidanza o che hanno partorito da poco a tutti i loro pazienti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicare l'influenza.